Venerdì 12 gennaio è iniziata questa mattina la nuova avventura per gli ambulanti del mercato delle Erbe nella nuova collocazione di via Gavardini. Sempre in questo 12 gennaio infatti è previsto l'avvio delle cantiere di riqualificazione del complesso San Domenico dove da un secolo e mezzo erano ospitate le bancarelle degli ambulanti. A estende che nei decenni si sono ridotte, oggi ci sono sei ambulanti che trovano nuova collocazione qui. Oggi sono arrivati i primi legati all'ortofrutta, domani arriveranno anche quelli del pane e degli altri alimenti che vengono serviti da questo mercato. Un punto di partenza per gli ambulanti ma anche un punto di arrivo dopo una lunga trattativa per trovare una nuova sistemazione con Comune di Pesaro e associazioni di categoria. Non è stato facile, è un anno che lavoriamo appunto per lo spostamento del mercato delle Erbe però era un'esigenza che i cittadini ci richiedevano. Come sappiamo il mercato delle Erbe è un mercato storico e non poteva essere assolutamente eliminato. Quello che oggi noi possiamo dire è che l'obiettivo della continuità che abbiamo dato anche a questi esercenti che comunque lavorano e fanno del sacrificio è già un obiettivo secondo me ottimo dell'amministrazione. Avevamo dato tre soluzioni per poter continuare il mercato delle Erbe. E' stata scelta questa qua di Palazzo Gradari e è chiaro che è più ridotto però anche gli ambulanti stessi sono diminuiti nell'arco di questo anno. Quindi nel frattempo già il fatto che noi possiamo dare la tradizione del mercato delle Erbe. Siamo rimasti all'interno del centro storico e è già un obiettivo ottimo anche perché di spazi ne avevamo tanti. Però erano fuori dal centro storico e quindi avremmo chiaramente spostato l'attenzione del mercato delle Erbe in centro storico. Quindi sappiamo che anche nelle grandi città c'è quello che è intenzione dell'amministrazione comunale, la continuità del mercato delle Erbe ma forse anche dare un rinnovo al mercato delle Erbe e anche aggiungere altri prodotti all'interno di questo mercato. E' ben cominciato in quarta, era notte ancora già la gente cominciava a arrivare, non ci lamenti adesso vediamo andando avanti, speriamo che ci seguano tutti, per ora tutto bene. Il primo impatto con questa nuova collocazione anche per voi come state? No è bello dai, un posticino abbastanza raccolto, pulito, il problema forse sarà quanto piove, quello sarà da testare, saranno momenti critici. E' il punto di inizio di un tre anni spero ottimi da parte imprenditoriale per i nostri ambulanti, anche se una critica la faccio, non la faccio al comune che si è prodigato, l'assessore Frequellucci che ha lavorato alacremente per cercare, essendo un'ex imprenditrice, ha capito qual era il senso del problema di uno spostamento e si è prodigata per trovare la soluzione migliore, l'attacco, attacco, una critica la faccio nei confronti della sovrintendenza che bastava un minimo di sensibilità in più e avrebbe evitato di mettere questi quattro ombrelloni, avrebbe messo la tettoia che tutti noi abbiamo chiesto in un cortile, si storico come un cortile di via Gavardini che quasi la metà dei pesaresi non conosce, che non sapeva minimamente dove fosse, per tre anni e poi la scopertura veniva tolta e si ritornava alla normalità. Credo che la sensibilità di questo ente sia ai minimi termini, non capisce quali sono le esigenze del mondo reale e così crea difficoltà agli imprenditori stessi che dovranno sopportare la pioggia e il caldo quando ci sarà. Ci sono delle rifiniture che devono essere finite all'interno del mercato dell'erba e quindi il 23 di gennaio ci sarà l'inaugurazione con l'amministrazione comunale e anche con i cittadini, quindi benvengano. Ora cos'è fondamentale? È fondamentale che i cittadini vengano al mercato delle erbe e far sì che queste attività possono andare avanti.